E' in corso in Parlamento la discussione sul decreto per la detenzione e l'utilizzo delle armi. L'onorevole Giuseppina Occhio Nero si è astenuta sul voto allo schema normativo proposto poiché non garantirebbe un'adeguata tutela per i cittadini. Possedere un'arma, anche se detenuta in modo lecito, rappresenta sempre un rischio per se stessi e per gli altri. Sulla base di questo presupposto la parlamentare di Liberi Uguali, Giuseppina Occhio Nero, unitamente agli altri componenti dello stesso gruppo politico alla Camera, ha deciso di astenersi sullo schema di decreto legislativo che recepisce la direttiva sul controllo e detenzione delle armi. Durante l'esame del provvedimento in commissione, ha dichiarato la Occhio Nero, abbiamo evidenziato la necessità di evitare l'emanazione di norme che potrebbero portare a una proliferazione ad un uso crescente e indiscriminato delle stesse armi. Nel rispetto della direttiva europea di riferimento, molto rigorosa nella tracciabilità di chi compra armi, ha concluso la parlamentare di Campomarino, abbiamo reso il parere al Governo, auspicando che le leggi e chi è preposto al controllo restino sempre e comunque la guida per un sistema sicuro e democratico. Grazie. 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 Grazie.